Sono tempi difficili anche per le parole e tutto potrebbe immaginare, meno che qualcuno mi attribuisse di avere antipatia o antagonismo, come fanno molti in televisione, per i napoletani. Nessuno attacco ai napoletani, ho semplicemente detto quello che mi sembrava il motivo per cui De Luca, per garantire la massima sicurezza e la salute, aveva ipotizzato e indica delle misure più rigorose. De Luca li conosce, i napoletani crede che non rispettaranno le regole. Ecco, tutto qua. Ma non era per dire che non rispettare le regole è sbagliato, era per dire che se le regole sono insensate, un napoletano tende a non rispettarle, ma non perché è delinquente, perché è ragionevole, perché è intelligente. Allora c'è una cosa su cui non posso transiggere, che proibiscono le persone di stare all'aperto. La forma migliore di sanità per i polmoni è l'aria aperta. E quindi se un napoletano passeggia sulla spiaggia e va al mare non in quantità di persone, ma da solo, credo che non fa nulla di male. Se uno prende la sua barca e va per mare non fa nulla di male. Quindi non sono pronto a cedere su nessun punto rispetto al fatto che è stato un errore impedire alle persone di stare all'aria aperta. Ho immaginato che i napoletani la pensassero come me, nient'altro. Ma se avete rispettato, se rispettate tutte le regole, benissimo, non sarò io a dire che voi perseguite delle forme di illegalità. Era solo l'idea di un istinto contro una norma sbagliata. Camminare da soli, andare in bicicletta, andare per mare da soli sulla propria barchetta, andare su una spiaggia, non è nulla che non sia più che giusto. Lo impari Conte e lo imparano quelli che vogliono imporci di stare al chiuso in case piccole piuttosto che stare all'aperto. Era questo che volevo dire e mi auguravo che fosse una posizione assunta dai napoletani che quindi si trovavano con un Presidente particolarmente rigido per impedire loro questo estro, questa libertà. Non è così. Sono pronto a scusarmene, ma nessun attacco ai napoletani, nessuna volontà di fare alcuna polemica. Grazie.